Una vacca sacra e tecnologica a simbolo della venerazione per la nuova valuta. Non manca una mucca che cambia le corone in euro tra le iniziative della città di Tallinn per familiarizzare con la moneta unica che l'Estonia adotterà dal primo gennaio. A dispetto del trionfalismo governativo, i sondaggi fotografano una popolazione profondamente divisa, una metà nostalgica e spaventata dagli effetti sui prezzi, l'altra persuasa che si tratti di un importante passo verso l'integrazione europea. Apprezzo la scelta di entrare nella zona euro. Nella quotidianità non credo cambierà molto, ma certo faciliterà i viaggi all'estero. Ovviamente mi mancherà la corona. L'Estonia è la mia seconda casa, la terra che mi ha cresciuto. Ne sono molto orgoglioso. L'addio alla corona mette certo un po' di tristezza. E proprio per consentire ai cittadini un ultimo addio all'amata corona, un fantasioso artista ha concepito una serie di giganteschi pannelli che riproducono le effigi rappresentate sulle banconote.